Ma l'occasione di intervistare Filippo è stata 15 anni fa. L'emozione traspare nel ricordo di Alberto Dell'Acqua, affermato giornalista, direttore della rivista svizzera Gastronomia e Turisma, scrittore ed editore originario di Grossotto che da anni 70 vive e lavora a Lugano. Sì, perché la persona di cui parla è il principe Filippo, per 73 anni a fianco della regina Elisabetta, una coppia irripetibile. Oggi Regno Unito si è fermato per un minuto alle 15 ora locale per rendere omaggio al Duca di Edimburgo, scomparso il 9 aprile all'età di 99 anni. Oggi funerali nella cappella di San Giorgio e trasmessi in tutto il mondo. C'è stato anche il riavvicinamento tra William e Derri, uniti nel ricordare un grande nonno. Alberto Dell'Acqua ha avuto la fortuna di conoscere diversi appartenenti alla nobiltà d'Oltremanica. Sarà il destino, sarà il mio lavoro di giornalista, sarà il fatto di aver fortunatamente sposato una suddita e sua maestà britannica che mi è capitato spesso di partecipare a manifestazioni ufficiali e meno dove erano presenti i reali d'Inghilterra. A Lugano l'incontro indimenticabile con il principe Filippo. Quando ho invitato a Lugano a assistere a una serata importante organizzata dal WWF e di occasione di offrire il mio libro Fudi, un libro che racconta l'avventurosa storia degli emigrati dalla Svizzera italiana verso il Regno Unito e viceversa. In questa occasione il principe si è manifestato, direi molto interessato, mi ha posto più domande e è nato anche un colloquio molto molto piacevole. Ma quello che mi piace più sottolineare della presenza dei reali o di Filippo l'Inghilterra a queste manifestazioni è il fatto che a serate così permettevano di raccogliere molti fondi, in questo caso abbiamo raccolto una cifra ricca di 300.000 franchi, penso che sia un caso unico per Lugano, a scopo benefico. Ecco, quindi c'è questo aspetto che mi sembra molto 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 simpatico da considerare anche oggi e mi associo al sindaco di Grosotto Saligari che ha posto le condoglianze alla regina Elisabetta e direi proprio che Dio salve la regina.